Sono socio dell'Univiso praticamente da quando sono nato e l'ho sfruttato praticamente sempre per giocare a tennis. Però da quando c'è la palestra ho scoperto questa nuova opportunità, è una opportunità importante e stimolante perché l'ambiente è fatto di persone molto simpatiche e di insegnanti molto preparati e gli orari e le lezioni sono distribuiti in maniera tanto da poter andare incontro a chi come me magari è spesso fuori per lavoro e quindi ha l'opportunità di venire e di venire il sistema nel qualsiasi di nuovo. Grazie